Dieci giorni dopo il terremoto, nei villaggi più arroccati, sulle montagne, gli aiuti arrivano ancora dal cielo. Gli elicotteri militari lanciano pacchi con cibo, coperte e tende, mentre a terra si lavora per riaprire le strade bloccate dalle frane. Servono tende pesanti, stufe e carburante per riscaldarsi perché le temperature qui stanno scendendo molto velocemente, dice questo soccorritore. Lo sforzo per far arrivare gli aiuti nelle località più impervie in alcuni casi ha fatto però dimenticare gli sfollati dei villaggi ai piedi della montagna. Il primo giorno gli aiuti sono arrivati subito perché siamo vicini a Marrakesh, spiega questo ragazzo, ma ora tutti pensano alle zone più lontane, qui non arriva più niente. La gente è stanca, la notte c'è freddo e queste tende sono troppo leggere, se dovesse piovere inoltre non reggerebbero, per questo molti stanno cercando di rientrare nelle case anche se sono danneggiate, dice invece quest'uomo. Esercito e protezione civile sono al lavoro per costruire i campi attrezzati voluti dal governo in vista dell'inverno, ma molti vorrebbero invece che si cominciasse subito a ricostruire le case perché vogliamo restare qui e ritornare alla nostra vita.